Atomic Heart si mostra in tutto il suo splendore in un primo video di presentazione del gameplay ma eccovi oggi tutti i dettagli emersi sul gioco Sviluppato da Manfish e in pubblicazione da Focus Entertainment il prossimo 21 febbraio 2023 Atomic Heart torna a mostrarsi con un gameplay overview trailer ovvero una panoramica sul gameplay prima del lancio ufficiale Con un'ambientazione post sovietica in Atomic Heart dovremo combattere davvero davvero molto scegliendo le migliori tattiche in base al nemico che troveremo davanti utilizzando tutto ciò che avremo a disposizione dalle abilità speciali di un guanto da combattimento ad armi di distruzione di massa Insomma le armi che potremo impugnare saranno inoltre potenziabili tramite un apposito menu di upgrade Aumentando quindi le statistiche di ognuna di essa e ovviamente trattandosi di un RPG è presente un sistema di crafting abbinato alle armi Il gameplay sembra estremamente divertente ispirandosi all'iconica serie Bioshock tuttavia bisognerà vedere con pad alla mano cosa sarà in grado di trasmetterci Per quanto riguarda il comparto tecnico invece quello che si nota è una grandissima cura ai dettagli Infatti l'ambientazione e il mondo di gioco in generale ci sembra ben realizzato così come il design accattivante di ciascun nemico Per oggi ma solamente per oggi è tutto Ma noi torneremo sicuramente a parlare di Atomic Heart nei prossimi giorni Infatti io vi ricordo che il gioco è entrato in fase di Gold lo scorso 25 gennaio Quindi questo assicura che non ci saranno rinvii di alcun genere Noi come al solito vi ricordiamo di entrare nel nostro gruppo Telegram ma soprattutto di iscrivervi al nostro canale per restare sempre aggiornati sul mondo del gaming a 360 gradi